Questa serie di video mostra il funzionamento del booster 3G Stella Dorados e la sua installazione. Il booster potenzia il segnale per connessioni Internet di dispositivi come cellulari per Internet, chiavette Internet o pendrive USB per computer portatili. Abbiamo installato il booster all'esterno e ora andremo all'interno. Siamo in una stanza con segnale 3G molto scarso. Abbiamo collegato l'antenna interna al booster esterno, ma non l'abbiamo ancora acceso. Osservate l'indicatore di intensità del segnale dell'iPhone. Visualizza solo una tacca. L'antenna interna è a circa un metro di distanza dall'iPhone. Ora accenderemo il booster e vedrete che l'intensità del segnale aumenterà gradualmente fino a 5 tacche, il massimo. Per avere un'idea del potenziale di copertura di questo booster, pensate che potete ricevere queste 5 tacche di intensità del segnale fino a una distanza di 25 metri, pari a circa 600 metri quadri di copertura. Quando spegniamo il booster, vedete che l'intensità del segnale diminuisce nuovamente. Il telefono può impiegare un po' di tempo per registrare il cambiamento. Ora faremo un test di velocità con il booster acceso. Su questo telefono abbiamo una velocità di download di 2 mega e di upload di un quarto di mega. Ora stiamo procedendo al download. Come potete notare, è già quasi a 2 mega. E ora l'upload. La velocità è circa un quarto di un mega. L'indicatore di intensità del segnale sull'iPhone è particolarmente indicato per questo tipo di test, mentre su altri dispositivi, come alcune chiavi USB, l'indicatore di intensità del segnale non è molto accurato o sensibile e non è affidabile per misurare l'intensità di segnale del booster. Utilizzate sempre www.speedtest.net per misurare con precisione la vostra reale velocità di trasmissione dei dati.